Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina, la fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli da ascoltare e da suonare sono disponibili presso By Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34 a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure infochiocciolabymarco.com La regina, la regina. La regina, la regina. La regina, la regina. La regina. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti